Allora, come diceva appunto Carlo, il discorso, allora, riallacciandomi al percorso storico, riprendiamo un attimino il discorso da quelli che sono gli elementi che, quantomeno dall'epoca romana, perché bisognerebbe parlare anche dell'epoca preromana, gli elementi che hanno sempre caratterizzato la formazione del paesaggio legato ai contesti funerari. Ovviamente gli elementi più rilevanti, qui li vedete in due ricostruzioni, due tipologie di ricostruzioni, sono quelli che hanno sempre suscitato la fantasia degli storici e in generale da chiunque si sia avvicinato al passato, cioè la monumentalità dell'ambito funerario in epoca romana, che si, diciamo, svolgeva soprattutto lungo le strade, perché sappiamo bene che in epoca romana, fin dall'età arcaica, era assolutamente proibito seppellire in città e quindi da qui è nata la tradizione di seppellire in vario modo, con tombe semplici o tombe più articolate, lungo le strade, sia le grandi consolari, sia qualsiasi strada che uscisse fuori dal pomerio della città. Qui ho messo semplicemente un riferimento giusto per capire come passata, diciamo, la tradizione medievale si sia cercato, si è cominciato a recuperare in epoca recente, moderna, il concetto della monumentalità degli spazi funerari, come vedete, le ricostruzioni, che sono più o meno, sì, certo, fantasiose, ma attendibili, con situazioni reali, come in questo caso i viali del cimitero monumentale di Roma. Allora, prima di entrare nel discorso, diciamo, specifico della parte medievale, facciamo un piccolo riassuntino per l'epoca romana, sempre tenendo conto, dice, ok, appunto, impegna in qualche modo il paesaggio. Uno degli elementi che ha sempre caratterizzato, appunto, questi spazi funerari erano i colombari, i colombari dove venivano deposte le urne dei defunti, perché, come sappiamo bene, in epoca romana, diciamo, fino alla tarda età repubblicana si usava l'incinerazione, quindi il morto veniva combusto e le ceneri raccolte in un'urna. Come vedete, di urne cinali ce ne sono di vari tipi, monumentali, come lì in alto a destra, più discrete, come queste, diciamo, vascolari, o anche più raffinate, come queste in vetro. Con l'epoca imperiale poi il discorso cambia e quindi cominciamo a trovare che dall'incinerazione si passa all'inumazione, e quindi il corpo del defunto veniva deposto integro, sia nelle sepolture semplici, come quelle, appunto, alla cappuccina che avete visto la volta scorsa con Carlo, sia nelle forme più monumentali, come in questo caso le grosse camere, grosse, insomma, relativamente... prego, 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 penso, e questo vi ho portato esempi così un po' random su tutta l'area del mondo romano per far capire, insomma, che sostanzialmente le abitudini, i sistemi erano talmente diffusi che li troviamo sostanzialmente uguali in tutte le zone. le zone. Allora, questo, qui entriamo un pochino nello specifico, nell'area più locale, queste sono due belle vedute di Ludovico Caracciolo, dell'area dei Massacci, l'area dei Massacci dove c'è una particolare concentrazione di monumenti funerari, diciamo, monumentali, che qui sono stati riprodotti come, diciamo, con lo stesso spirito in cui abbiamo visto le prime riproduzioni della prima slide. Questi però sono in qualche modo dei disegni presi sul posto, quindi queste sono più che altro vedute reali. Se da qualche parte si legge Monte Calvo, credo sì, nella prima, eccolo lì, quindi vi fa anche capire, questo è un esempio molto raro di vedutisti di epoca moderna, in cui non solo rappresentano la situazione che vedono allo stato attuale, senza ricostruzioni fantasiose come, per esempio, quelle piranesi, ma lo inquadrano dal punto di vista topografico, quindi lo contestualizzano nel paesaggio, con l'indicazione di questi riferimenti topografici che sono assolutamente quasi unici nel loro genere. Poi ancora, questa è la grotta dei Massacci, che insomma, penso, conosceremo abbastanza bene tutti, che è una cosa veramente particolare, è particolare nella sua struttura, però è, come dire, in continuità con la tradizione romana nella sua forma, come vedete è semplicemente una camera sepolcrale di forma a croce greca, monumentale quanto vogliamo, con i blocchi in opera quadrata che doveva ospitare nelle singole nicchie e le deposizioni in sarcofago. Allora, questa poi è un'immagine di uno dei due sepolcri a torri che si trova lì vicino, cioè questo è lo stesso sepolcro da due angoli diversi ed è un po', intanto era uno di quelli che abbiamo visto rappresentato nell'altra slide, ma è un po' uno dei simboli del modo in cui la romanità ha marcato il territorio, per un motivo molto semplice, perché questi monumenti, al di là di essere stati poi nel Medioevole, nel Tardo Antico, una cava di materiali pazzeschi, pazzeschi, ci si costruivano intere strutture svuotando solo uno dei monumenti, perché dovete immaginare questo è solo il nucleo di cementizio, il resto era tutto decorato con elementi monumentali, come vedete per esempio in questo, questo che è un caso veramente unico, che è la cosiddetta Conocchia, che è un punto, uno dei tante tipologie di monumenti funerari, con camera interna ovviamente, che si trova appunto lungo Lappia, in provincia di Caserta. Allora, voi immaginate un monumento di questi, completamente rivestito di blocchi di marmo o di calcare, era una cava pazzesca. Inoltre, a un certo punto nel corso del Tardo Antico dell'Alto Medioevo diventa un punto di riferimento, cioè non è più la tomba del personaggio famoso, eccetera, viene quindi decontestualizzato come elemento funerario, ma diventa un punto topografico, cioè ci sono tantissimi documenti in tutta l'Europa latina, in cui spesso quando si deve fare un riferimento ad un punto topografico preciso, si usano anche queste tipologie di monumenti, cioè per esempio anche un caso in cui questi monumenti funerari diventano veri e propri agglomerati di villaggi, ce n'è uno lungo Lappia che è diventato attorno a uno di questi monumenti, è stato realmente costruito un villaggio. Allora, diciamo, idealmente usciamo dall'epoca romana, che appunto ha lasciato questi segni molto importanti sul paesaggio, e ripartiamo subito da un altro, diciamo da una cosa un po' particolare. Allora, Santa Vittoria non solo è, insomma, questo posto stupendo, come vedete anche il circondario, insomma, rende abbastanza bene, ma è stato fin da subito un punto di riferimento, a prescindere dalla sua funzione. Primo perché Santa Vittoria, il complesso di Santa Vittoria, quindi la Chiesa, le Catocombe, nascono a ridosso, se non quasi sopra, un ambiente templare di prima epoca repubblicana, tardo-arcaica, e quindi hanno ereditato questo complesso direttamente la funzione territoriale di quel complesso templare. Ma è importante perché in qualche modo questi luoghi, adesso, insomma, vedremo un pochino più specifico, ereditano, in un certo senso, la funzione territoriale esercitata dai complessi funerari. Le diverse catacombe, noi siamo abituati, magari che pensiamo alle catacombe di Roma, dove c'erano talmente tante, distribuite su tutto l'anello della grande città, per cui non si riesce a percepire il valore territoriale, il valore topografico. Invece, in questi casi, e nella Sabina sostanzialmente ce ne sono due, ce ne poteva essere un terzo, che adesso vedremo che è andato completamente distrutto, questi elementi diventano catalizzatori, a loro volta, della vita. Cioè, si dismette l'aspetto della distribuzione topografica del vissuto e viene riassorbito dal significato che rivestivano questi ambiti funerari. Allora, quello di Santa Vittoria, ovviamente, è abbastanza conosciuto, come vedete la chiesa romanica, qui la vediamo nella sua fase poi di evoluzione nel corso dell'epoca medievale, probabilmente già esisteva una chiesa, una piccola chiesa, un piccolo oratorio legato alla funzione delle catacombe, legate soprattutto appunto alla tradizione della sepoltura di Santa Vittoria. Ora, non è un caso che le tre grandi città della Sabina, cioè Cures, Trebula e Rieti, della Sabina intendo dire della Sabina Reatina, diciamo Tiberina e Reatina, lasciando per ora perdere il cicolano appunto che non è Sabina di fatto, tutte e tre hanno restituito testimonianze di ambiti sepolcrari di epoca paleocristiana, quindi a partire dal quarto, quinto, sesto secolo. Ora, Santa Vittoria è l'unico, l'unico che si può ancora verificare, perché gli altri, come vedremo adesso, sono andati completamente perduti. Questo è un elemento fondamentale, perché nella, permettetemi di dire, nella piccola realtà geografica della Sabina, dimostra chiaramente una cosa, che la diffusione del cristianesimo, prima ancora che attecchire nelle campagne, attecchisce nelle città, cioè sono i grandi luoghi che catalizzano relativamente grandi masse di persone e che quindi hanno più possibilità di offrire nuove prospettive sociali, filosofiche, eccetera, in cui attecchisce il cristianesimo. E non è un caso appunto che noi lo troviamo, lo troviamo a Trebula, già dal quarto secolo sicuramente, a Cures, più o meno nello stesso periodo, ho tenuto conto che Cures diventa già sede episcopale ben presto e poi ovviamente anche a Rieti. Allora, qui un piccolo dettaglio delle catacombe. Diciamo che noi adesso non riusciamo a percepire, rispetto alla prima foto che abbiamo visto di Santa Vittoria, con la prospettiva dal basso, non riusciamo a percepire l'importanza di questa presenza, perché ovviamente la mole della Chiesa in qualche modo lo struisce. Però voi immaginate, torniamo un attimo indietro, voi immaginate questa visione, chi arrivava da questa strada, riusciva immediatamente a percepire questo piccolo pianoro, che già esisteva di fatto, in cui comunque ci doveva essere un simulacro che indicava l'esistenza di questo spazio funerario. Quindi è come se questo fosse stato a suo tempo, e tuttora è così, fosse stato quasi il biglietto d'ingresso per l'ambito di Trebula. Allora, dicevo anche di Rieti, purtroppo Rieti aveva una situazione molto simile, che si trovava, secondo quello che è stato riportato alla fine del 1800, si trovava nell'attuale cimiterio di Sant'Eleuterio. Gli storici che all'epoca videro i rifacimenti del cimitero, di cui lì vedete in basso il progetto costruttivo, che corrisponde a quello attuale, parlano di una chiesa, che doveva avere le stesse fattezze che ha la chiesa attuale, quindi deve essere una chiesa quantomeno romanica. Peccato che le fonti parlano chiaramente di una presenza funeraria legata al culto di Sant'Eleuterio. Quindi probabilmente, nel caso di Rieti, il discorso ormai è andato perso. E la stessa cosa, purtroppo, si può dire da quello che è uscito fuori dagli scavi nel centro storico, che non hanno sciolto il grosso enigma di quando comincia a esserci una presenza, diciamo, sacra, che al tempo stesso portava dietro anche un aspetto funerario. Qui invece il discorso di Cures paradossalmente è anche peggiore, perché vedete lì con i rettangoli sono indicati tre complessi funerari riconosciuti dalle fonti, dagli studi storici, eccetera, come tre, diciamo, sicuramente una è una catacomba, quella che vedete, legata a Sant'Antimo, che era, diciamo, quella un po' più consistente, dove c'era il vero primo nucleo paleocristiano, che infatti era sostanzialmente sdoppiata, perché quella che vedete sulla destra è la catacomba di località Montemaggiore, che viene ritenuta anche da studiosi notevoli come Fiocchi Nicolai, viene ritenuta la catacomba legata al culto di Sant'Antimo, e poi nello stesso quadrato, al numero 4, ci deve essere un'altra catacomba, distante, se non sbaglio, un chilometro, e tutte queste, come vedete, gravitano intorno a Cures. Cures praticamente ha una situazione molto simile a quella di Trebula, cioè per grandi linee non era un centro come noi lo intendiamo, ad esempio, a Rieti, cioè un agglomerato urbano, cinto da mura e circoscritto, era un centro più distribuito e quindi quando in epoca tardo antica questi centri cominciano, come dire, a perdere un po' della loro importanza per l'epoca romana, sostanzialmente si disperdono, quindi troviamo, ad esempio a Cures, come vedete, sostanzialmente il centro antico si disperde su più poli. Per Trebula, fino ad ora che io sappia, sepolture tardo antiche non se ne sono trovate, forse per un motivo semplicissimo, perché probabilmente si usava la catacomba di per sé, però, per esempio, è curioso il fatto che gli scavi che sono stati fatti qui vicino, insomma, nell'area del vecchio foro, hanno restituito tracce di attività di V, VI secolo d.C., mi sembra, ma non sepolture, cosa che invece, appunto, è abbastanza consueta nelle città tardo antiche, cioè quando l'amministrazione romana perde importanza e quindi quando si perdono i valori della romanità, cioè non seppellire in città, rispettare gli spazi pubblici, eccetera, si comincia appunto a seppellire dentro le città, adesso vedremo a Riedi. E questo, per ora, non sembra essere successo, almeno qui a Trebula. Vescovio, e poi finiamo, diciamo, la carrellata generale, Vescovio è l'anomalia. Vescovio, Santa Maria in Vescovio, a Torrin Sabina, a un certo punto diventa, diciamo, in epoca alto medievale, diventa la sede della diocesi di Sabina, l'altra diocesi rispetto a quella di Riedi, che tra l'altro entrambe si contenderanno spesso questo territorio, perché questo territorio è sempre stato centrale tra le due realtà, con anche la complicità dell'abbazia di Farfa, che ovviamente nei suoi territori faceva un po' la voce grossa, quasi l'abbate si spacciava, anche se non formalmente, come un Vesco. Vescovio, qui vedete la chiesa cattedrale, già di epoca alto medievale, ottavo-nono secolo, con la famosa cripta semianulare, perfettamente simile alle tante cripte di ottavo-nono secolo dell'area romana, centro-italica. Fino ad ora non ha restituito nessuna sepoltura d'arda antica, tranne un solo caso, molto discusso e che tra l'altro ha scatenato grosse discussioni a livello locale, perché l'equipe inglese gli ha dato un nome bonario inglese e gli studiosi locali si sono un po' imbizzarriti e hanno protestato. Però è l'unico caso accertato. Tutti gli scavi che sono stati fatti, gli scavi, le prospezioni, attorno al nucleo dell'episcopio, non sono stati rilevati nuclei funerari. Questo cosa significa? Questo significa che l'abitato di Forun Novum, diciamo la città di Forun Novum, non ha avuto quella rottura di tradizioni antiche che ha portato poi all'occupazione degli spazi con ambiti funerari, ma è stata completamente abbandonata, tranne che per già una prima occupazione qui nell'area della cattedrale. Però la cosa curiosa è che anche una volta creata la cattedrale, diciamo nell'ottavo anno secolo, non abbiamo attorno tracce di sepoltura, non ce ne sono, né in quella fase, né in epoche successive. Quindi diciamo che questo è un caso un po' anomalo, perché sostanzialmente Vescovio è rimasta una cattedrale nel deserto, quella che è rimasta fino a pochi anni addietro. Allora, detto questo, cominciamo a dire, abbiamo visto che la Romanità, anche nella sua dimensione di ambiti sepolcrari più semplici, comunque ha mantenuto diciamo uno standard molto elevato, anche molto continuo, cioè nel senso che noi possiamo trovare situazioni simili in ovunque dell'impero romano e anche ovviamente della Repubblica, ma sono tutti i casi che si ripetono quasi uno uguale all'altro. Con l'Alto Medioevo, con il Tardo Antico e l'Alto Medioevo, questa linearità si perde completamente. Si perde completamente perché? Perché diciamo che tendenzialmente si seppellisce dove capita. Ci sono tantissimi casi di ville tardoantiche, dove magari quasi semi abbandonate, dove rimaneva magari soltanto una famiglia a coltivare un piccolo campicello e noi ci troviamo sempre, sempre una, due sepolture, c'è sempre qualcuno che si va a seppellire dove, sostanzialmente dove capita. Per cui anche il discorso della valutazione della qualità, cioè dell'attenzione che viene posta alle sepolture, è un discorso molto relativo. Cioè, adesso vedremo, ci sono state alcune tombe, come per esempio una di quelle scavate nei termini di Cotiglia, che inizialmente sono state descritte come povere, quasi di gente che non aveva nulla. In realtà no. In realtà una di queste tombe, per esempio, aveva un elemento, una collana in vaghi di ambra, adesso vedremo, che era una cosa ricchissima per l'epoca, comunque denotava un personaggio di livello. Quindi a un certo punto con l'Alto Medioevo si ritorna un po' indietro a prima della Romanità, dove la qualità della persona si misura anche su quello che la persona si porta dietro. Allora, questa dispersione di sepolture ovviamente fa sì che la casistica sia praticamente illimitata. Io qui ho preso soltanto alcuni esempi, diciamo, quelli che mi ci coinvolgono direttamente, anche con Francesca, perché altrimenti, insomma, sarebbe venuta fuori una pianta con tanti e tantissimi punti e tanti casi che stanno qui fino a domani. Allora, questo è il primo esempio, perché secondo me, anche ritornando al discorso del, diciamo, dell'impatto sul paesaggio, questo è un contesto molto interessante che anche allora è passato, insomma, un po' quasi in secondo piano, ma che in realtà, anche questo secondo me, a mia opinione, è un enigma, perché vedete, è una piccola chieselta che aveva sia all'interno che all'esterno una serie di sepolture, diciamo, più o meno organizzate su due fasi, e tutte prive ovviamente di corredo, adesso come vedremo, e che però è una chiesetta? Allora, a me è venuto il dubbio che magari questa possa essere, sì, una chiesetta, ma possa anche essere una sorta di recinto funerario alla maniera antica, diciamo, perpetuato in piena epoca medievale, perché qui saremmo, già potremmo essere dall'ottavo al decimo, undicesimo, undicesimo secolo, ma quello che è interessante è che questo contesto che si trova sulle sponde del lago di Scandarello, che sì è un lago artificiale, ma come vedete comunque è una grossa conca che ha attorno sono tutte zone di declivio, ha restituito una situazione come quella che vedete in basso a destra, che se la immaginate inalzato, se immaginate lì una piccola chiesetta inalzato, è praticamente identica a quella che esisteva all'epoca in cui fu realizzata la necropoli, quindi questo è veramente un piccolo spaccato di una situazione che sostanzialmente è rimasta inalterata, albero più o albero meno, e che doveva apparire all'epoca così, cioè una piccola, chiamiamola chiesetta, di campagna, forse legata a un villaggio che c'era lì attorno, non sappiamo, con una manciata di sepolture che vanno più o meno su tre generazioni, quindi saranno più o meno un'ottantina d'anni di vissuto, più o meno. Adesso qui vediamo la tipologia delle sepolture, ecco, è abbastanza semplice, tenete conto che più ancora che nella romanità povera, dove comunque anche le tombe per esempio degli schiavi, dei liberti, delle grandi ville, comunque avevano un loro standard, cioè usavano i laterizi, usavano una cura nel deporre i margini della tomba, qui vedete che è tutto un po' diciamo improvvisato, nel senso che si usano materiali eterogenei, quelli che ci sono, più o meno messi in opera in modo adeguato, ma che, diciamo in maniera semplice, ognuno va per conto suo, tenendo conto di un'idea massima che è quella di fare una fossa, mettere dentro il defunto, talvolta anche più defunti, cioè nel senso alcune tombe, è una caratteristica anche della romanità, ma soprattutto nel medioevo, tard'antico, alto medioevo, di avere sepolture plurime, cioè di aprire, chiudere, riaprire e chiudere la tomba. Allora, qui invece passiamo ad un altro caso, in cui, anche se non riusciamo a percebirlo, ma anche qui si è mantenuto più o meno lo stesso paesaggio. Allora, qui vedete in alto a sinistra questo viottolo, sulla cima di Monte Santo Sabino, all'altezza di Monte Izzo, proprio le ultime propaggini dei Monti Sabini, prima di Contigliano e prima della Piana di Rieti. Dovete immaginare che al termine di questo viottolo, in cima, all'altura, c'era appunto questa chiesetta che abbiamo scavato veramente quasi 30 anni fa, che ha restituito degli elementi interessanti. Allora, qui in basso a sinistra vedete, diciamo intanto che la chiesetta inizialmente era costituita dall'aula rettangolare, l'abside, mentre quello che vedete qui, il nartece, è stato aggiunto successivamente. Allora, questa sepoltura qui che vedete, no, che non indica, no, scusate, allora, quella in basso a sinistra, questa sepoltura è stata ritenuta probabilmente una sepoltura di pregio, di valore e a cui probabilmente adesso vi farò vedere il sarcofago che dovette essere usato per chiudere questa sepoltura, però vorrei farvi vedere, purtroppo le foto appunto sono un po' vecchiotte, allora, non tanto questa in basso a destra, quanto in alto lì a destra, a un certo punto è successo questo, che della prima chiesa tutto intorno erano presenti delle sepolture di vario tipo, sempre a fossa, a un certo punto quando hanno cambiato lo status di questa chiesa e hanno aggiunto appunto questo questo nartice che vedete lì, questa struttura rettangolare a destra, hanno completamente svuotato tutte le sepolture che stavano intorno, hanno letteralmente raschiato di via tutto quanto e hanno creato quel vediamo se funziona appuntatore ecco, allora questo qui che vedete è un grosso interro fatto di resti di sepolture quindi ossa umane prese buttate dentro rimpastate con la terra qualcuno interro qualcuno no e che è stato appunto utilizzato per creare l'interro per costruire questa nuova struttura del nartice allora questo è un altro dato caratteristico del medioevo spesso diciamo chi si occupa di questo periodo si chiede ma in tante epoche diciamo ottavo, nono, decimo secolo, undicesimo secolo dove restano le tombe? Le tombe non ci sono più perché sono state tolte io vi posso dire per esempio una volta ho scavato ad Anagni non un ossario ma un interro fatto solo esclusivamente di ossa quindi interi necropoli interi ambiti di necropoli svuotati e riutilizzati come terreno di riporto sostanzialmente quindi il caro vecchio concetto che nel medioevo il rispetto della morte eccetera è un po' da rivedere allora questo è il sarcofago che vi dicevo come vedete in realtà è un coperchio di un sarcofago che in parte era già stato trovato nel secolo scorso in parte l'abbiamo ritrovato noi perché è importante perché come avete visto qui siamo in cima ad una collina non facile da raggiungere quindi questa chiesa probabilmente era una pieve che doveva servire a chi abitava l'intorno quindi a chi coltivava a chi occupava le fattorie eccetera però la presenza di un monumento come questo che probabilmente andava a coprire appunto una delle delle tombe specifico questa secondo secondo noi insomma che è quella più rilevante questo sarcofago sicuramente è stato portato lì quindi è stato portato per qualcuno che aveva un rango questo qualcuno poteva essere o un monaco particolarmente importante oppure direttamente il signore che controllava questa zona quindi questa chiesa non è più una pieve in questo senso non sarebbe più una pieve a uso della gente che lavorava sul posto ma era una sorta poteva essere stata a un certo punto la chiesa signorile di chi controllava quella zona che quindi per dirla in maniera semplice aveva la possibilità di comandare a qualcuno di far portare queste pietre enormi in cima alla collina allora qui passiamo a un'altra tipologia di ambiti sepolcrali che sono appunto quelli del recupero degli spazi delle grandi di ville signorili con ambiti di sepoltura in questo caso siamo alla villa dei brutti presentes attribuite al 99% ai brutti presentes nel comune di Scandriglia e allora questa villa ha avuto la sua storia come una villa signorile con particolare importanza nel secondo secolo nel secondo e terzo secolo dopo Cristo a un certo punto anche per le vicissitudini legate alla famiglia che la possedeva come dire è caduta in abbandono e questo cadere in abbandono ha portato ad utilizzare gli spazi di questa villa di questa villa in particolare ma delle ville in generale ad uso funerario allora in genere quando una villa signorile di questa portata come vedete questa è solo una parte la parte centrale dove si estendeva a macchia su tutto il resto del territorio le prime parti che venivano abbandonate di queste grandi ville erano le terme erano ambienti anche ambienti di servizio secondari tutto ciò che non era più basilare perché magari al posto dell'aristocratico del senatore eccetera magari arrivava appunto una semplice famiglia di contadini che coltivava che gestiva queste ville come poderi agricoli piuttosto che come ville signorili e quindi non avevano più l'esigenza per esempio di utilizzare le terme quindi diventavano appunto luoghi di sepoltura allora in questo caso vedete queste sono ancora parti della struttura della villa qui vedete la distinzione diacronica che ha fatto Francesca sulla base delle presenze molto probabilmente le prime sepolture in questa villa risalgono proprio al quinto secolo proprio uno dei periodi di vera cesura tra il mondo antico e il mondo post antico e questo è importante perché una tradizione così diciamo prematura al quinto secolo per questa zona permette di capire che il residuo di questa chiesa che è sicuramente attestata già in epoca alto medievale ha avuto probabilmente già un precedente quindi in questo caso nel caso della vita dei brutti presentes non lo sappiamo con certezza ma la presenza di una necropoli e la presenza di una vicina chiesa sono andate un po' di pari passo allora qui vediamo alcuni alcuni casi questa questa sua sinistra è una sepoltura che come vedete si trova proprio in questo in questo ambiente che vediamo torniamo un attimo indietro ecco che in pratica corrisponde a questa a questa zona quindi quella dove presumibilmente c'erano le terme sbaglio presumibilmente presumibilmente invece quest'altra è una sepoltura che si trova nella parte nell'altra zona della villa quella dove c'era appunto l'agio dove c'era il nucleo residenziale della villa stessa come vedete sono sepolture apparentemente semplici e gli elementi del corretto come vedete sono ridotti al minimo ma siamo in un'epoca in cui si andrà progressivamente sempre meno a deporre oggetti nelle sepolture perché il rituale cambia le esigenze cambiano anche dal punto di vista economico si comincia a distinguere la sepoltura semplice c'era una sepoltura più articolata la sepoltura più articolata è quella per esempio signorili dove si andava a utilizzare per esempio un intero sarcofago i papi questo hanno fatto in epoca alto medievale e in epoca riformista si andavano a prendere i sarcofagi antichi li svuotavano e li utilizzavano per le loro cioè davano la disposizione per utilizzarli per le loro sepolture oh questo qui invece è un'altra un'altra sepoltura trovata anche questa nella zona residenziale della villa questa sepoltura è veramente particolare perché nel corredo era presente oltre questo vasetto solido qui siamo in un ambio diciamo sesto settimo secolo avanti Cristo e dopo Cristo scusate era presente anche questo pettine che come vedete era deposto qui sul fianco che cosa è importante questo pettine prima di tutto è un oggetto assolutamente raro in questa zona d'Italia perché è tipico è tipico anche se non definisce l'etnico Longobardo ma è tipico delle zone Longobarde cioè già in epoca romana si usava seppellire i defunti soprattutto ovviamente gli uomini con i pettini anche se poi anche le donne avevano sepolture con pettine ma non questi questi sono classici pettini pettini a scatto ovviamente che probabilmente avevano anche una funzione pratica cioè saranno stati l'equivalente del pettine effettivo che la persona aveva ma erano sostanzialmente pettini rituali cioè venivano deposti con un significato rituale ma che cosa è importante questo la tipologia il tipo di decorazione e la caratteristica posizione la sequenza di elementi deposti sono tipici delle aree dove sono passati i Longobardi non che sia Longobarda ma dove sono passati i Longobardi questo perché in epoca Longobarda quindi dal tardo sesto secolo settimo ottavo secolo è vero che una distinzione etnica era importante cioè io sono di quella cultura quindi seguo quella moda ma erano talmente innovativi per certi versi erano talmente accattivanti che alla fine nel corso degli anni le due culture quella romana e quella Longobarda si sono compenetrate e quindi noi troviamo elementi romani in tomba sicuramente Longobarda e viceversa questo perché è importante perché la vita di Brutti Presentes è ai piedi di Monte Calvo ed è legata a un territorio in cui la tradizione parla in maniera più o meno esplicita di una proprietà della famiglia del re Desiderio del re Longobardo Desiderio tant'è che una delle figlie di Desiderio avrebbe appunto concesso questo spazio territoriale e quindi dimostrerebbe che questa era una proprietà diretta del re che è una cosa abbastanza rara in questa zona d'Italia ma abbastanza rara in sé che comunque ha bisogno di chiarimenti storici eccetera e qui usciamo dai Brutti Presentes questa bellissima panoramica allora come vedete qui siamo nella valle che si apre ai piedi della zona dove si trova la villa Monte Calvo dove c'è sicuramente un castello medievale è qua sotto è qua sopra scusate questa è la villa e qui c'è il passaggio della salaria in questo più o meno in questo punto e vedete qui ci sono altri monumenti del tipo a cilindro o a torre quando facemmo la ricognizione tempo a dietro ne abbiamo trovati diversi lungo questo tratto quindi dovete immaginare che all'epoca in cui esisteva la villa in cui la villa è cominciata ad essere abbandonata in cui hanno cominciato anche a seppellire questo contesto è rimasto sostanzialmente identico quindi da un punto di vista paesaggistico la situazione non è cambiata di molto a parte la miriade di olivi che sono stati piantati dentro e sopra la villa allora qui cominciamo la parte di Rieti Rieti soltanto di recente ha avuto diciamo ha restituito testimonianze di epoca post-antica e schiettamente alto medievale e va bene qui insomma una panoramica di quelli che si ritengono essere i punti essenziali della Rieti di epoca tarda antica ed alto mediale diciamo fino al X secolo qua sotto invece più in dettaglio sono i risultati degli scavi di Piazza Vittorio Emanuele III che è vero che sono stati scavi che sono intervenuti su un'area già abbassata nel secolo scorso qui già nel 1800 mi sembra furono fatti scavi risistemazioni urbane con distruzione di tutti gli strati prettamente medievali tant'è che chi ha scavato queste zone che insomma in antico corrispondeva più o meno al foro romano ha trovato praticamente questi risultati a pochi centimetri dal terreno perché appunto il livello è comunque stato già abbassato e i risultati sono stati ovviamente in linea con tutto quello che si continua a trovare in Italia in altre città europee cioè la fase cosiddetta tarda antica la fase in cui una volta che l'amministrazione romana come diciamo prima viene ad essere ridimensionata e viene sostanzialmente a sparire gli spazi urbani vengono utilizzati a discrezione qui per esempio in alto a sinistra vediamo tutta questa serie di sepolture credo che più o meno ne abbiamo trovate circa 26 nell'area di Piazza Vittorio che si dispongono ai lati addosso a cavallo di quello che rimaneva del podio del Capitolium quindi del tempio principale del foro come vedete sono sepolture a parte appunto che avendo già scavato nel 1800 molti dei contesti sono stati distrutti disturbati ma vedete che sono sepolture quasi casuali che si sovrappongono una con l'altra che raramente hanno una sistemazione organica come vedete qui questa è una fossa organizzata con appunto pietrame cavato dal dal basamento del Capitolium vedete anche il carattere disordinato di queste sepolture noi adesso lo vediamo in corso scavo è quasi difficile da immaginare ricostruire qui dobbiamo pensare che questo groviglio un tempo significava che appunto si sapeva che lì si poteva si poteva seppellire magari perché era per tradizione di famiglia era addirittura qualcuno possedeva proprio fisicamente quell'aria e quindi si andava si faceva una buca si metteva il morto chiunque questo sia e via così noi adesso cerchiamo piano piano con i rapporti stratigrafici con il primo e il dopo cerchiamo di capire cosa è venuto prima e cosa è venuto dopo ma all'epoca ovviamente questa esigenza non c'era ecco vedete diciamo per essere un po' così un po' larghi di manica questa questa struttura assomiglia molto a quella che abbiamo visto a Scandarello cioè pietre rimediate sul posto messe lì a delimitare una fossa quasi fosse un'esigenza un'esigenza primaria e comunque in epoca d'art antica alto medievale anche i limiti delle fosse non venivano rispettate mentre ci sono alcune sepolture in epoca tardo-arcaica nella prima epoca repubblicana dove addirittura noi troviamo le misure esatte che si trovano tutt'ora i famosi un metro e ottanta i 60 piedi 60 piedi sono 30 centimetri un piede no i 6 piedi mentre in epoca in epoca successiva questo ovviamente non veniva più rispettato poi ovviamente troviamo anche casi come questo in cui il deposto è rimasto composto così come era stato seppellito probabilmente avvolto ovviamente in un sudare o qualcosa del genere ma come vedete facendo per buona la buona fede la capacità degli scavatori come vedete è stato messo semplicemente a terra e probabilmente coperto da terreno o da quant'altro allora adesso è un caso ancora diverso se nelle città romane la rottura diciamo della gestione amministrativa comportava che anche aree pubbliche perché lì siamo nell'area del foro anche le aree pubbliche venivano usate per sepolture tanto più i monumenti come in questo caso i cosiddetti termi di cotiglia che in realtà termi non sono ma un grande impianto templare sacrale in qualche modo di fine secondo secolo avanti Cristo con varie aggiunte eccetera che anche esso in epoca tardantica non è che perda subito di valore perché essendo un culto legato alle acque essendo un'area cultuale legata alle acque ancora nel quarto e quinto secolo se non sbaglio viene citato come come area di culto tuttavia anche qui probabilmente in un'area andiamo un pochino avanti ecco probabilmente in un'area prossima al grande impianto templare vi devono essere state delle varie varie zone di abitato cioè gente che si era appropriata in maniera lecita o illecita di spazi abitativi in tutta quest'area e che quindi andava poi a seppellire in questi nel caso specifico di termini di codiglia in questi due ambiti torniamo un attimo indietro allora io qui vi ho segnato la la chiesa di santa maria di incesonis che diciamo in qualche modo è distante dall'area dove sono state recuperate sepolture che sono qui e qui è distante e tra l'altro attorno alla chiesa non ci sono sepolture è distante perché in questo caso la chiesa non ha nessuna attinenza con il luogo di sepoltura cioè le sepolture si sono formate in un'epoca ovviamente precedente la chiesa la chiesa è venuta dopo per tutt'altro ambito anche se questa chiesa di santa maria probabilmente anche essa è una fondazione alto medievale ecco qui in particolare noi abbiamo fatto un bel po' di scavi qui davanti di sterro proprio non abbiamo trovato assolutamente niente neanche uno straccio di sepoltura qui ritorniamo al discorso questa è la chiesa come vedete tra i due nuclei c'è una distanza che per l'epoca è praticamente abissale nel senso indica due cose completamente diverse per noi è vicinanza ma all'epoca no era una cosa completamente distante allora queste sono le prime sepolture trovate alle terme di Cotiglia nello specifico quelle trovate in questa zona tra queste vorrei farvi rimarcare questi elementi questa è una semplice brocca non dà particolare motivo di preoccupazione questi inizialmente sono stati indicati come elementi poveri ora possedere un oggetto di questo tipo pasta vitria ho sbagliato un nome in ambra possedere un oggetto di questo tipo significava avere un ruolo sociale notevole e primo perché costava parliamoci chiaro e riuscire a conservarlo e portarlo con sé nella sepoltura voleva dire anche avere un ruolo un rango tale per cui per dire in maniera franca quando muori nessuno te lo porta via ti rispettano nel seppellirte e la stessa cosa per questo questo è di fatto un anello non una cosa semplice da trovare negli ambiti centroitalici tardoantichi più è più consono per la tradizione per esempio dei guerrieri longobardi che comunque mantenere uno status sociale di ricchezza elevato qui le sepolture più recenti come vedete sostanzialmente nulla di diverso dalla solida tradizione anche questa distinzione fosse semplici ricavate negli interri o fosse semplici rivestite di materiale sul fondo è tutto molto relativo nel senso che queste potevano essere delle decole smontate in un punto dove magari la persona che gestiva questa serie di sepolture il membro della famiglia aveva accesso perché magari avevano avuto in proprietà o in affitto quella zona e quindi ne potevano disporre avevano la facoltà di disporre quindi in questo caso non è nel segno di ricchezza nel segno di floridità e finiamo anche perché poi la voce finisce finiamo purtroppo quello che è tuttora un potenziale assolutamente mancato e volutamente mancato è quello della Madonna del Cuore a nord di Rieti allora qui vedete è Sant'Eleuterio che abbiamo visto prima allora a un certo punto nella collezione Castellani che adesso si trova al Museo di Villa Giulia sono comparsi questi oggetti le fibule le borchie i pendenti che si dicono provenienti appunto dalla Madonna del Cuore di Rieti allora in questa zona pur sapendo quello che era stato teoricamente trovato perché appartenendo a una collezione è tutto molto teorico non c'è stata mai 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 l'intenzione di approfondire secondo me devo dirlo in maniera molto polemica per un motivo semplicissimo perché questi oggetti oltre a essere nel caso specifico delle fibule delle rarità tanto che gli storici gli archeologi di questo periodo storico del VI VII secolo gli hanno dato un nome specifico fibule tipo Rieti quindi sono uniche hanno delle somiglianze con quelle come vedete di Nocera Umbra ora Nocera Umbra insieme a Castel Trosino sono le due necropoli più grandi in assoluto dell'Italia centrale pari soltanto alle necropoli delle regioni del nord dove i Longobardi avevano il peso maggiore io le ho chiamate Godo Longobarde perché come dicevo prima in questo periodo storico dire che una cosa è Longobarda è una cosa romana una cosa è Godo è molto molto aleatorio primo perché sono pochi oggetti e secondo perché di fatto questi oggetti venivano venduti comprati e posseduti anche da chi non era proprio di quella origine etnia quindi un romano aveva magari piacere a farsi seppellire con fibule di questo tipo e un Longobardo magari no un Longobardo che chiaramente non doveva mantenere uno status sociale ecco questa come dicevo appunto è stata una grossissima occasione mancata perché voi immaginate che una zona di questo tipo che fino alla costruzione della chiesa del XIX secolo è una zona sostanzialmente poco abitata quindi facilmente scavabile avrebbe portato sicuramente alla conoscenza quanto quanto meno dell'effettiva necropoli quindi avrebbe dato un contributo fondamentale a capire come il paesaggio attorno alla città di Rieti si è andato strutturando anche in un'epoca storica come quella del VI o VII secolo in cui di fatto Rieti è un centro di potere dei Longobardi quindi avrebbe potuto dar luogo alla scoperta di una necropoli con centinaia e centinaia di dombre ammesso che ci siano purtroppo non hanno voluto verificarlo e quindi la domanda è rimasta in Evasa grazie